Allora io spero che questa volta stia registrando perché ho parlato 5 minuti come un coglione a un monitor spento a quanto pare, vedevo la mia faccia, neanche troppo perché devo guardare lì e quindi non sto guardando mai negli occhi, vabbè non lo so, al più sto guardando da un'altra parte, io penso di dover guardare lì. Comunque 20 secondi e non ho detto un cazzo, volevo dire il primo torneo dell'Utrini è andato benissimo, chi ha partecipato era contento, questo mi fa molto piacere, quindi facciamo già il secondo torneo dell'Utrini o meglio iniziamo a organizzarlo, lo facciamo in Pauper perché sotto democrazia forzata abbiamo deciso che era Pauper, cioè io ho deciso che era Pauper e ovviamente lo facciamo su Arena quindi non abbiamo a disposizione tutte le carte di Pauper. Uno, vi chiedo una mano, per il semplice fatto che io non sono tanto avvezzo a Pauper nonostante lo trovi un formato molto affascinante. Due, perché prima ho detto uno, quindi non B, i ban li vediamo man mano, ci sarà da testare, useremo la lista delle carte comuni di Arena, quindi carte tipo Bolt, tipo Brainstorm, Delver non saranno utilizzate per il semplice fatto che non c'è la loro versione comune su Arena. Abbiamo scelto Pauper sia per una questione di costi, quindi tutti avrebbero potuto partecipare, che appunto perché volevamo provare qualcosa di diverso dall'Explorer barra Pioneer e oggettivamente io non me la sentivo di chiedervi di fare Timeless perché costa veramente tanto e vabbè, cazzi loro e cazzi nostri. Quindi sarà Pauper, best of three, la ban list la sceglieremo man mano, quindi non andremo a giocare nel giro di una settimana. Chi è interessato me lo può scrivere direttamente qua sotto, oppure può entrare nel gruppo Telegram, Discord, insomma un modo per farmelo sapere lo sa. Domani, se ho voglia, mi ricordo, metto anche un post, però non a tutti arriva. Quindi ragazzi, se voi volete partecipare a questo torneo o anche solo volete delle informazioni, io e Corri ci siamo disponibili a rispondervi e sicuramente vi rispondono anche i ragazzi già che partecipano a questo progetto. E niente, vabbè, ciao, mi sono rotto il cazzo.